La bellezza fiorisce nel canto, scrisse il filosofo Schiller, e dalla voce intensa di Carmela Remigio fiorirà un'iniziativa bellissima. Il soprano di origini abruzzesi, con una straordinaria carriera a livello internazionale, tornerà ad esibirsi in Abruzzo dopo oltre dieci anni, e lo farà sabato 4 febbraio alle ore 21 al Teatro Tosti di Ortona, in un recital con il pianista Michele Delia, in cui saranno proposti brani di Bellini, Donizetti, Rossini, Davide Remigio, Tosti, Puccini. Il ricavato della serata, organizzata dal Lions Club di Ortona, sarà utilizzato per munire il reparto di radiologia senologica dell'ospedale Bernabeo di Ortona di un impianto di filodiffusione. Ascoltiamo Carmela Remigio al microfono di Pietro Lambertini. Sono molto felice di tornare qui in Abruzzo dopo dieci anni. Metto a disposizione la mia voce, il mio canto, la mia arte, per questa finalità solidaristica, perché credo che la solidarietà sia importante anche per tendere una mano a chi, nel momento del dolore, ha bisogno di conforto. Cosa ascolteremo in questo concerto? Nel concerto di sabato 4 febbraio al Teatro di Ortona, ascolteremo un programma interamente di compositori italiani dell'Ottocento, musica da camera di Bellini, Rossini, Donizetti, e poi del nostro amato concittadino Tosti, al quale è intitolato anche il teatro. Ci sarà un brano di Davide Remigio dedicato alla mia cara mamma, e poi ci saranno alcuni brani del repertorio operistico italiano, Cilea, Puccini, e concluderemo con Tu che mi hai preso il cor di Lear, e poi tanti bis, spero. Vi aspetto tutti al Teatro Tosti di Ortona, a braccia aperte, per ascoltare musica insieme, per fare musica, vi donerò il mio canto e la mia voce, per questa importante causa benefica, affinché chi soffre può ascoltare la musica e avere un po' di consolazione attraverso la musica. Oh, 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 oh Grazie a tutti.